La giornata di ieri è stata particolarmente importante per la città e per l'intera provincia. In città è stato presentato infatti il progetto per la nuova stazione marittima che prevede investimenti per 35 milioni di euro. Il piano è stato elaborato dalle compagnie di navigazione MSC, Royal Caribbean e Costa Crociere e le previsioni dicono che l'opera sarà pronta entro il 2023. Secondo il cronoprogramma si inizierà a gennaio con la rimozione dei binari su Calatta Paita per passare poi all'ampliamento del molo Garibaldi, al nuovo molo Crociere e infine alla stazione marittima vera e propria. E sempre in questa giornata è arrivata anche la notizia da parte del Comune della realizzazione di una piscina galeggiante nel mare della passeggiata Morin, due annunci importanti che confermano la volontà della città di sfruttare sempre più il suo fronte a mare. Ma se la città guarda con particolare attenzione allo sviluppo delle attività marinare, in provincia è stato dato il via ai lavori di ricostruzione del ponte di Rocchettavara, quel ponte spazzato via dalla disastrosa alluvione del 25 ottobre 2011. Anche qui cerimonia importante nel ricordo delle vittime di quel tragico evento e con l'impegno a portare a termine l'opera, un ponte di 26 metri, nell'arco di 6-8 mesi. Tutto bene, verrebbe da dire, ma purtroppo nella nostra provincia le previsioni di fine lavori sono sempre state disattese. Lo hanno ribadito proprio ieri gli abitanti di Borghetto Vara alle prese con enormi disagi per i ritardi sulla conclusione dei lavori dei due ponti che la piena del Torentone degli amministratori regionali, che però ieri non si sono fatti vedere. Che dire poi della variante Aurelia, i cui lavori sono fermi da molti mesi, e del nuovo ospedale del Fellettino. Qui addirittura abbiamo assistito alla posa di due prime pietre. Agli amministratori di ieri e di oggi piacciono evidentemente le cerimonie e gli annunci. I cittadini però vorrebbero anche vedere la conclusione delle opere pubbliche. Qui purtroppo i tempi di realizzazione dei progetti sembrano invece infiniti.